Cari amici, la settimana scorsa, e ne parlo solo oggi volutamente per scelta, perché ne hanno parlato tanti, anche con voce autorevole, sono stati commemorati i 22 anni dalla strage di Capace, ci sono stati moniti reggi, morali da persone notissime, anche per i loro difetti più reconditi, insomma gente che nessuno di noi stima, ma solamente teme. Comunque vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che dopo i tamburi, dopo le trombe e ovviamente i tromboni che hanno parlato e sparlato di tutto questo, non è cambiato niente, no? Non è cambiato niente, non è cambiato niente perché le forze di polizia le tagliano, non gli rinnovano il contratto, provano a farle stare peggio che le altre categorie. Quando si va a votare e si pretendono i poliziotti e i carabinieri ai seggi, si tentano di farli alloggiare in posti squallidi dove se per caso ci alloggiasse un extracomunitario tutti grideremmo allo scandalo, qualche Papa ci direbbe vergogna, vergogna, però il carabiniere ce lo possiamo mettere dentro a dormire, però il poliziotto ce lo possiamo mettere dentro a dormire, perché il poliziotto è meno che il rifugiato, meno di un extracomunitario. Se non si vuole cambiare cultura, i cittadini saranno sempre costantemente manovrati in questo e questo non può essere, perché tira, 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 poi la corda si rompe. Le scorse elezioni europee hanno dato il segnale. Grillo non esisterebbe se non ci fosse stata una politica marcia e maleodorante prima. È evidente. Adesso non ne possiamo più, nemmeno di questa antimafia a parole e a fatti. No. La mafia si può combattere sempre. Basta volerlo e non avere favoreggiatori della mafia in Parlamento o zone limitrofe.